No ai cretini, no ai bugiardi, no agli ipocriti, no a quelli che vi fanno credere che voi votando sì ridurrete i parlamentari per lasciare i loro privilegi a quelli che rimarranno dentro. Non è male, invece di avere mille rappresentanti che si dividono per i luoghi d'Italia, avrebbe 600 e pagare quei 600 come pagare quei 1000, non si capisce perché, per essere lontani, per non rappresentarvi, per dar ragione a un gruppo di disperati che stanno in Parlamento senza averne titolo, i grillini, i grillini che sono andati in Parlamento tutti con i voti andati a uno solo, altro che democrazia, altre che leggi e riforme elettorali, i voti a uno che sono caduti, poi tu dai il voto a Grillo ed esce Di Maio, dai il voto a Grillo ed esce Buonafede, dai il voto a Grillo ed esce Lazzolina, ma chi cazzo di voto è? Il sistema elettorale fa ridere e questi che hanno goduto di un sistema elettorale idiota e che sono in un numero esagerato, potrebbero andarsene a casa e finalmente avremmo una democrazia reale che corrisponde a quello che pensano gli italiani, vogliono ridurre i parlamentari, ma perché lo fanno? Perché non hanno nessun altro argomento, l'unico argomento è tagliare, 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 chiunque non abbia un privilegio non vuole che lo abbiano altri, allora dicessero che facciano i parlamentari gratis, loro prima di tutti, lasciano i loro soldi, altro che sì, no, no agli ipocri, no ai bugiardi, no agli opportunisti, no alle macchine blu di Di Maio, tutto quello che hanno sempre legato e che invece hanno, il fotografo personale che costa 35 mila euro, le scorte e stupidi come sono pagati, pagati negli imbecilli, i quali pretendono di ridurre il Parlamento per dire siamo stati così bravi, avevamo ridotto le spese, rimettetevi, non valete un cazzo, rinunciate al vostro stipendio, chi vota sì aiuta i coglioni, chi vota sì favorisce gentaglia come i travaglio, gli scansi, dei beccamorti, pegliettatori, della gente malata, malata dimostra, noi siamo capaci di rinunciare, ma avete mai visto qualcuno che come quel poveretto disperato del Toridelli, l'unica cosa che può dire quando lo contestano, ma io mi sono ridotto lo stipendio, ma chi al mondo vuole guadagnare di meno, chi al mondo dice tagliate la mia categoria, chi al mondo dice meno notai, meno magistrati, ma soltanto i deputati, li prendono per il culo, è una presa in giro e tutto questo in una categoria che vuole comunque punirsi per dire come siamo bravi, ma quanto sono infetti alcuni magistrati e quando mai penserebbero di essere meno pagati o di dimezzarsi, quando mai, quando mai un magistrato diminuiamo, quando mai, perché non dice soltanto la categoria dei grillini o la categoria dei falsi parlamentari ipocriti che vogliono dire riduciamosi, ma perché? Perché uno si deve ridurre? Qual è il vantaggio di ridurre? Avere meno avvocati, meno medici? Si vogliono più medici, più avvocati, più professori, meno parlamentari, per forza, si fanno passare per dei ladri, rinunciano i soldi semmai, ma che vuol dire votare sì per ridurre i parlamentari, potreste sì per ridurre i professori, per ridurre i magistrati, per ridurre i notai, sareste pazzi a votare sì, qualcuno lo farà, giusto per lo spirito di vendetta e per dar ragione a quattro beccamorti, se piace a Di Maio occorre votare al contrario, se piace a Buonafede occorre votare al contrario, no agli ipocriti, no ai bugiardi, no a quelli che fanno le santerelline a noi, sì sì, andate a casa voi, andate a casa voi, rinunciate i vostri stipendi, 20 mila euro al mese di Maio, 20 mila Buonafede, andate a cagare, altro che sì, no, no a voi, il voto sia un no a questi mentecatti.